Tutto pronto per la 31esima edizione di Famiglia Teatro. Ritorna la storica stagione di teatro per ragazzi promossa dalla botta e il cilindro con un titolo di sicuro richiamo, Galline Libere. Lo spettacolo debutta domani alle 18 al Ferroviario e rimane in replica fino a domenica. Stefano Chessa è il regista e trammaturgo di questo singolare inno alla libertà, alla natura e all'amicizia che vedrà in scena Consuelo Pittalis, Margherita Lavosi e Bianca Maria Lai. Un lavoro che si avvale dei costumi di Luisella Conte e di una scenografia minimale per raccontare le traversie di due galline Malve e Zuzu, nate in cattività e del vecchio gufo Bubo che le condurrà verso una nuova vita. Una favola poetica che contiene un messaggio forte e attuale e rispetto per la natura e gli animali diretto a grandi e piccini. La rassegna è sostenuta da Regione, Ministero, Fondazione e Comune. In tempi di pandemia il teatro non mancherà di riaprire in completa sicurezza con alcuni accorgimenti. Agli spettatori che arriveranno in teatro verrà misurata la temperatura che ovviamente non dovrà superare i 37 gradi e 5, poi verrà chiesto di igienizzarsi le mani, verranno presi i dati così come da protocollo ministeriale. Verrà anche osservato il distanziamento di due metri tra spettatore e spettatore ad esclusione di familiari e congiunti. La botte al cilindro continua quindi a portare avanti il suo programma, nonostante le difficoltà, sapendo di poter contare sul suo pubblico che, a causa dei protocolli Covid, sarà ridimensionato un'ottantina di presenze. Andremo passo passo con grande prudenza, con un minimo di programmazione, che però corrisponde quasi totalmente a quello che avevamo messo in progetto.